Cari amici della montagna, abbiamo risolto le problematiche qui a Pretoro e quindi abbiamo dato parere favorevole alla riapertura della strada che da Pretoro collega Passo Ranciano. La stessa cosa da Letto Monopello, quindi i sciatori e gli amanti della montagna possono circolare liberamente e in sicurezza. Un abbraccio a tutti voi. Grazie.